Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. Questa vorrebbe essere la prima parte di una sorta di video guida per l'utilizzo di uno dei servizi più interessanti del web, Imager. Imager, vedete qui come è scritto, è un servizio di hosting di immagini, cioè un servizio che nasce per archiviare immagini e che serve anche per creare e archiviare meme e gif animate. Si tratta di un servizio, questo è il logo, di un servizio free e il suo scopo, il suo obiettivo, l'idea da cui nasce appunto quella di condividere, creare e condividere immagini, cartelle, album, gif animate, meme, post. Il tutto è focalizzato sui contenuti, il contenuto fondamentale è appunto l'immagine. Noi sappiamo quanto è importante l'immagine nell'ambito della comunicazione digitale e multimediale e anche nell'ambito della formazione, del mondo formativo. Quindi Imager può essere un interessante e utile strumento per raccogliere le immagini, per archiviarle e condividerle in modo semplice e rapido. Vediamo le caratteristiche di Imager. Bene, è interessante anche la storia di Imager perché è un social media molto differente da altri di successo come Facebook, Instagram, Twitter, eccetera. Alan Schaaf, allora molto giovane, nell'Ohio, ebbe quest'idea nel 2009. Si trattava cioè di disporre di uno strumento per poter pubblicare e rapidamente condividere con un link in un post, in un forum, in un social, appunto, le proprie immagini. I servizi presenti allora esistevano ovviamente nel 2009 ma erano più macchinosi, più complicati. Quindi serviva qualcosa di rapido e di poco complicato da poter utilizzare nel mondo social, nei forum, eccetera. Imager da poche migliaia di utilizzi passò a un milione di visualizzazioni di utilizzi al giorno grazie a Tecnocrati e DIG. Gli utenti di Tecnocrati e DIG, di questi ambienti, di questi social, avevano infatti bisogno di un rapido servizio per pubblicare le immagini e poi condividerle nel loro posto, Tecnocrati e DIG. Ben presto, grazie appunto al mondo dei social, Imager faceva un enorme balzo, oggi è considerato da Alexa uno dei 15, tra i 15 siti più utilizzati negli USA, 250 milioni di utenti, via dicendo. Questo è un articolo pubblicato sul post, recentemente, che spiega un po' la filosofia di Imager, oltre che la storia e le funzionalità principali. Imager non ha raggiunto la stessa diffusione di altri social, abbiamo parlato di Facebook, di Instagram, eccetera, ma ha scelto una strada differente. Mentre gli altri social sono andati complicandosi con l'aggiunta di funzionalità, fino a diventare veramente complicati da gestire, se pensi a Facebook e alle decine e decine ormai di funzionalità che a Facebook, Imager è rimasto fedele e coerente alla sua idea di base. Un modo gratuito, rapidissimo, per caricare e condividere immediatamente le immagini. E' quello che conta, infatti, sono i contenuti, in questo caso le immagini, non tanto gli utenti, i contatti, i gruppi, le pagine, le sezioni, che non esistono su Imager, ma le immagini e basta. Noi quindi possiamo esplorare, condividere, scaricare, valutare le immagini di chiunque, senza bisogno di essere in contatto con lui, di conoscerlo, e così via. Il fatto che sia centrato sulle immagini e non sugli utenti, dà a Imager caratteristiche molto interessanti. Per esempio, non esistono problemi come il cyberbullismo, insomma, come la cafonaggine digitale, non esistono camere dell'eco, cioè quei gruppi all'interno del quale cercano sempre le stesse idee, le idee estranee o differenti sono censurate, bannate, non trovano, insomma, la possibilità di entrare nel gruppo, e quindi si rafforzano i pregiudizi, si rafforzano gli stereotipi, e così via. Non esistono gruppi organizzati su Imager, eccetera. Quindi diciamo che è un oasi, come lo definisce l'articolo, del post rispetto a tanti altri social. Fa una cosa, la fa molto bene, molto rapidamente, gratuitamente, ed è molto interessante. Bene, non c'è bisogno di alcuna registrazione per usare Imager in modo immediato, cioè se abbiamo solo bisogno di condividere rapidamente una foto, basta recarsi sulla pagina di Imager, vedete l'ambiente, qui abbiamo i post più popolari, che sono immagini, immagini con qualche titolo, oppure sono dei meme, come questo dei pinguini, gif animate, eccetera. Quindi centrato sull'immagine e non, diciamo, sull'utente. Per un nuovo post, per pubblicare un nuovo post senza registrazione, proviamo a caricare un'immagine, e questa è infatti l'operazione fondamentale. Quindi clicchiamo su New Post, adesso lasciamo stare i video, come ottenere un video da una gif, o come creare un meme, e vediamo le immagini. Quindi vedete che si apre questa finestra e posso o incollare qui l'URL dell'immagine, o trascinare qui l'immagine, oppure browse dal mio computer. Posso anche fare CTRL V, ma utilizziamo quella che è la più semplice, quindi io vado dove ho le immagini, vedete, ho aperto la cartella, prendiamo un'immagine qualsiasi e la trascino qui. E come avete visto, istantaneamente l'immagine è caricata. Vediamo ora quale operazioni di editing posso fare, qui darò un titolo, Oreste e Ritenestra, qui posso inserire una descrizione, oppure posso inserire dei tag, vaso per esempio, e così via. Posso anche inserire una menzione, riferita a qualche altro utente. Posso, vedete, spuntare questa casella se ci sono contenuti troppo espliciti, o comunque inappropriati, o comunque per un pubblico adulto, diciamo così. Posso fare che cosa poi? Quindi posso aggiungere delle, vedete, questo è il tag che ho aggiunto, posso aggiungere altre immagini, sempre con lo stesso procedimento, prima andiamo su Browse, adesso aggiungiamo, non so, un'altra immagine. Così verrà un'immagine composta da diverse immagini, ciascuna con il proprio titolo, descrizione e così via. Posso continuare a editare, scaricare l'immagine, aggiungere ulteriori immagini, posso anche, vedete, ottenere il codice per incorporare immediatamente nel mio blog, per esempio, questa immagine. Oppure posso ottenere, sempre cliccando su share, quindi condividi, ho la possibilità, posso ottenere il link, quindi ho la possibilità di ottenere o il link diretto, o, vedete, di pubblicare in alcuni tra i più importanti, Reddit, Pinterest, eccetera, social, l'immagine che ho creato. Diciamo che ho concluso, posso ancora, vedete, se passo il mouse sull'immagine appare questo, che è il link, posso editare l'immagine, e quindi come la potrò editare? Per esempio, tagliando l'immagine, so, applica, ecco, vedete, ho tagliato l'immagine, a questo punto salvo, ho ottenuto, vedete, un cambiamento, naturalmente posso fare questa operazione con la seconda immagine che compone la mia immagine complessiva. A questo punto posso, per esempio, mantenere nascosta la mia immagine, oppure pubblicarlo, se io non lo pubblicherò, renderlo pubblico per tutta la comunità. Questo lo posso fare senza registrarmi, se voglio invece creare cartelle, creare album, disporre, diciamo, di maggiori funzionalità, devo registrarmi, io mi sono già registrato, e quindi adesso mi loggerò. Ecco, sign in, e come vedete, ha riconosciuto, ovviamente, ecco, questo è l'ambiente, torniamo all'inizio adesso, prendiamo un'immagine qualsiasi, per esempio questa, vedete che ogni immagine dispone di che cosa? Bene, posso condividerla nei più importanti social, posso mettere un mi piace o un non mi piace, questo è anche un sistema interno di punteggio, che viene utilizzato anche per verificare la presenza di contenuti inappropriati, quando un'immagine ha tanti non mi piace, allora c'è un intervento umano per verificare di che cosa si tratti. posso inserirla nelle cartelle che ho creato, vedete, io ho questa cartella, cliccando su, ripeto, su questo più, favorito, e poi più, la aggiungo a una delle cartelle, posso anche creare una nuova cartella, cliccando qui, adesso lasciamo stare, ho altre possibilità, certo, posso inserire un commento, vedete, questi sono tutti i commenti, posso reagire con una GIF animata, posso ancora, utilizzando appunto i tre puntini, il menu, posso scaricare questo post, bene, vediamo adesso come creare un album, perché questo potrebbe diventare uno spazio di archiviazione, in cui io inserisco le mie immagini, per esempio le immagini che uso in aula, con le mie classi, e quindi posso anche creare dei veri e propri album, per ordinare queste immagini, andiamo su image, o images, ecco, queste sono le immagini che per il momento ho caricato, supponiamo di voler creare un nuovo album, per esempio, un new album, quindi andiamo, scusa, andiamo qui, questo serve per ordinare le immagini, in base alla data di caricamento, o al nome del file, ordine ascendente o discendente alfabetico, e questo mi permette di vedere le informazioni sulle singole immagini, poi vedremo come funzionano, creiamo un nuovo album, vedete compare questa maschera, chiamiamolo Atlante storico, storico per esempio, diamo una descrizione, adesso io mi limiterò a scrivere descrizione, possiamo o renderlo pubblico, sarà condiviso, è disponibile alla visualizzazione per tutti gli altri utenti di Imager, oppure nascosto, nascosto posso vederlo solo io, o chi ha il link, per esempio i miei studenti a cui ho dato il link dell'album, oppure segreto, posso vederlo solo io, adesso io selezionerò pubblico, salvo, e il mio album ovviamente è vuoto, adesso devo aggiungere immagini, per chiaramente popolare il mio album, ecco, andiamo su Ad Image, aggiungiamo delle immagini usando il sistema di prima, quindi io cercherò delle immagini da caricare, diamo qui scuola, immagini, scusate è un po' complicato, storia, andiamo su cartine, scusatemi tanto, ma è un po' complicato, ecco qui, queste sono alcune cartine di storia, anziché averle nel mio computer, voglio averle su Imager, quindi facciamo così, ne selezioniamo alcune, io in realtà ho due monitor, quindi mi converrebbe, vedete, trasferirlo nell'altro monitor, ma perché tutti possiate vedere, vado un po' giù, prendo a caso adesso queste cartine, posso caricarne, come vedete, anche più di una, e rilascio tutto qui, le cartine sono state caricate, non sono nell'album adesso, le ho caricate nel mio spazio di archiviazione, se infatti vado su tutte le immagini, seleziono Atlante storico, vedete che è vuoto, allora, andiamo su Aggiungi immagini, posso aggiungere le immagini, da, da tutte le immagini, vedete, le immagini di quest'album, non ce ne sono, immagini che non sono in nessun album, queste, o tutte le immagini, insomma, adesso io selezionerò, tutte queste, se me le prendo, devo andare una a una, selezioniamo tutte le cartine, che ho caricato, per prova, e insieme a voi, e vado su, salva, e come vedete, tutte le mie cartine, vengono caricate, nel mio album, a questo punto, posso, vedete, cliccando su, incorpora, embed l'album, posso ottenere il codice di incorporamento, oppure, posso ottenere, vedete, cliccando, ripeto la procedura, quindi, embed, share, ho qui il link diretto, che posso copiare negli appunti, oppure, posso pubblicarlo, in questi social, posso anche generare, selezionando, per esempio, una singola immagine, vedete, generare il link, di questa immagine, quindi, seleziono l'immagine, seleziono, genera link, e poi, fai, eccola qui, questa è l'immagine, infatti, se copio il link, lo incollo qui, e ci vado, vedete, ho la mia, bella immagine, bene, queste sono alcune, delle operazioni principali, che si possono fare, con imager, come vedete, sono tante, in realtà, le cose che posso fare, ma sono tutte, centrate, sulle immagini, quindi, è un servizio, veramente efficace, veramente utile, per utilizzare, al meglio, le nostre immagini, per poterle, fondamentalmente, pubblicare, e condividere, vi ringrazio, nella seconda parte, vedremo anche, i meme, e i video, le gifre animate, vi ringrazio, dicevo, vi auguro, una buona giornata. di me, di me, di me, di me, di me, di me. Grazie a tutti.